Come fa il cliente a scegliere dove comprare? Lo scopriremo subito dopo la SIGLA! Allora, questa chiacchierata parte perché mi sono trovato in mano questo libro che ho comprato 15 anni fa e che a me piace veramente tantissimo. E allora ho detto, già, racconto due cosine, due stupidaggini su questo argomento. E qui dentro c'è scritto che alla fine noi come persone, tu ed io, non compriamo con la logica, con la matematica. Oh, Tom, mi conviene comprare questo anziché questo. No, compriamo tutto di stomaco e di istinto. O perlomeno la maggior parte di noi compra di stomaco e di istinto e sicuramente non di logica. Quindi, però trasportiamo quello che c'è scritto qui nel nostro mestiere. Quindi nel mestiere del tecnico, dell'elettricista, di chi vende servizi o impianti antifurto, impianti allarme, intrusione. E quindi partiamo da una base. Prima di comprare qualcosa ragioniamo, ma quasi mai in modo lineare e matematico. Intanto mi leggo gli appunti che mi sono scritto. Le nostre emozioni guidano la maggior parte dei nostri acquisti. Chi vende può facilmente guidare le nostre emozioni e i nostri acquisti. Questo capita sempre. E i più grandi sono chi crea dei grandi brand, eccetera. Più soldi hanno è più semplice guidare i nostri acquisti. Altrimenti non si spiegherebbe perché tanta gente con le pezze al culo vadano in giro con delle macchine bellissime. Non è logico se non sei pieno di soldi, ma veramente pieno, spendere dei soldi per una bella macchina che di fatto risulta essere solo un costo ed è un mezzo di trasporto. Ti viene venduta tutta l'emozione del se compri con la macchina sei un gran figo e viva e tutti compriamo la bella macchina. No tutti, tranne me. Allora, tornando ai nostri impianti, dobbiamo pensare che quando noi facciamo un preventivo al cliente, questo preventivo, se non abbiamo già un'immagine, tutta la fiducia del nostro cliente, e quindi non ha un'estrema fretta, il nostro cliente farà un paragone del nostro preventivo con il preventivo del nostro competitor, come è giusto che sia, no? E in generale comunque la forza maggiore la fa la nostra immagine dal punto di vista di fiducia. Se quando noi abbiamo parlato al cliente, abbiamo trasferito la nostra immagine come un tecnico di fiducia, come una brava persona, prima ancora di essere un bravo tecnico, quindi il bravo tecnico lo diamo per scontato, ma una brava persona, quindi non lo stiamo fregando, allora il nostro impianto è venduto. Ma molto spesso, almeno nel mio caso, i rapporti con i nuovi clienti non sono neanche faccia a faccia, sono magari al telefono, via mail, eccetera. Quindi magari mandiamo le nostre offerte e non abbiamo avuto modo di avere un contatto per cui non possano comprendere il nostro modo di lavorare. Cioè lo possono fare leggendo le recensioni dei clienti che hanno preceduto loro. Quindi già i nostri clienti che hanno scritto delle belle recensioni, quello dà un ottimo messaggio di fiducia. Dopo ciò però uno si ritrova alla fredda condizione di avere un preventivo in mano. Facciamo il caso dell'impianto all'arma intrusione. Quindi tu ti fai la tua analisi dei rischi. Che ne so, allora se vai là hai tutto modo di esprimerti, eccetera. La cosa è migliore, vedi il cliente, fai capire quanto sei una brava persona parlando e quanto sei un bravo tecnico e gli offri la tua soluzione migliore. Poi gli manderai la tua offerta e ok. Se non vai là e noi molto spesso ci facciamo mandare la pianta di casa, eccetera. Quindi mandiamo un preventivo senza neanche essere andato là. Ci facciamo mandare le foto, facciamo un'analisi dei rischi generica attraverso le informazioni che ci facciamo dare dal cliente e poi l'analisi dei rischi un po' più fine, chiamiamola così, la facciamo quando arriviamo dal cliente stesso. Dopo che ha accettato l'offerta, cioè lui sa che a noi piace mandare prima un'offerta, prima ancora di andare là perché se il cliente ha un'idea di spesa corretta può decidere se chiamarci oppure no. È inutile andare là e poi ma io pensavo di fare l'impianto con 200 euro, capito? Quindi noi mandiamo sempre un'idea di spesa che precede qualsiasi tipologia di incontro perché fa risparmiare parecchi soldi all'azienda. Vabbè, al di là del come gestisco questo tipo di cosa, si fa l'analisi dei rischi, poi si crea un preventivo, quindi un'offerta. Questa offerta abbiamo detto che lui la paragonerà ad altri competitor e quello che gli ha dato più fiducia vincerà decisamente. A parità di fiducia, poi lui farà un confronto con la sua idea di protezione, ma anche la sua idea di prezzo. Cioè se lui pensava di spendere, che ne so, 2000 euro e le offerte sono 1900, 2100 e 3000, lui resterà intorno alle 2000 e poi in base a quello, magari quello che gli offre più protezione a parità di fiducia. Però, qual è uno dei problemi? Intanto molto spesso non sai qual è la propensione all'investimento per quell'impianto del cliente. Cioè tu non sai se il cliente è propenso a spendere per sentirsi protetto 2000, 3000, 5000. Molto spesso non si sa e il cliente difficilmente ti dice io voglio spendere, cioè sono propenso a spendere 5000 pur di sentirmi protetto. Allora potrebbe essere un'idea fare al cliente più offerte. Cioè una volta stabilita qual è l'analisi dei rischi e quindi sai quali sono i sensori, i contatti, i dispositivi che devi mettere per raggiungere almeno il livello 1 e quindi dare una protezione base. Potresti fare un preventivo che è una protezione base e un preventivo invece che è come lo faresti per casa tua, cioè un preventivo, un ottimo preventivo di protezione. E tu potresti presentare queste due offerte. Allora partiamo dal fatto che una cosa che c'è scritta qui dentro è che le persone quando hanno più opzioni e le opzioni sono molto simili tendono a paralizzarsi. Ok quindi più opzioni ma opzioni simili le persone si paralizzano quindi una buona percentuale piuttosto non sceglie, cioè accantona ma non sceglie. Cioè quindi non acquista, rinuncerà all'acquisto perché le opzioni sono troppo simili e la paura di sbagliare è troppo forte, cioè di scegliere quella che non va bene, non fa per il caso suo. Quindi le due opzioni che offrirai dovranno essere differenti, cioè non solo come prezzo ovviamente, dovranno essere differenti anche come caratteristiche. Quindi un impianto base, potresti anche scriverlo sul titolo dell'offerta, impianto base, impianto completo, impianto protezione plus, non lo so. Però le tue due offerte dovranno essere sicuramente differenti e si dovrà comprendere il loro peso, cioè sono due offerte, una cioè tutte e due ti proteggono nel modo corretto ma una ti protegge di più. E ovviamente costerà di più perché avrà più materiale e più tempo di installazione, questo mi sembra palese. Quindi a questo punto noi ci troveremo che il 50% dei clienti, andando a grandi numeri, sceglierà l'offerta base e il 50% sceglierà l'offerta, chiamiamola completa. Cosa c'è scritto su questo bellissimo libro, stupendo libro, che aggiungendo una terza offerta, chiamiamola offerta estrema, e quindi tu gli dai l'offerta base, l'offerta completa e gli aggiungi l'offerta estrema. Facciamo che l'offerta base c'è il livello 1, l'offerta completa gli metti più, che ne so, sensori interni, piuttosto che magari gli metti le telecamere, ecco. Gli metti sensori interni con telecamera, quindi se suona l'allarme, ti invia le immagini, quindi è un impianto decisamente più completo, decisamente è anche più costoso, no? Però il cliente è libero di scegliere come investire il proprio denaro per la propria sicurezza. L'offerta estrema è, puoi aggiungere sensori esterni con telecamera, piuttosto che addirittura un impianto telecamere. Cioè è un'offerta che si vede che è veramente una protezione massiccia, però ovviamente la spesa diventa differente, diventa una spesa molto più alta. Aggiungendo questa terza offerta, per un baco che abbiamo nella nostra testa, chiaramente per i clienti che se lo possono permettere, abbiamo una repulsione, una repulsione agli estremi, una buona percentuale dei clienti, se prima dicevamo che noi, i clienti si divinano al 50%, ci saranno sui grandi numeri, ci saranno quelli che scegliono l'offerta base, e il 50% sceglieranno l'offerta completa, aggiungendo un'offerta molto più costosa, qualche cliente sceglierà l'offerta più costosa, quelli che se la possono permettere e vogliono un bel impianto super performante. I restanti, secondo una logica, se fossimo dei robot, si dividerebbero al 50% l'offerta base e al 50% l'offerta completa. I restanti, quelli escluso, quelli che hanno acquistato l'offerta estrema. Invece non è così, per questo bacco della propensione agli estremi, il restante sceglierà molto di più l'offerta intermedia, che sarebbe più completa, e di meno l'offerta base. Quando ci sono tre offerte, distinte non simili, distinte sia di prezzo che di corpo dell'offerta, il restante andrà a scegliere l'offerta media, quindi perché è un tradimento, la nostra testa è fatta così. Quindi, diciamo che in soldoni, quando fai un'offerta per il tuo allarme, ma questo lo racconto anche te che vuoi comprati l'allarme, generalmente se ti arrivano tre offerte, e anche se le offerte vengono fatte con onestà, intendo, attenzione, cioè non è che ti sto fregando perché ti faccio tre offerte, io ti faccio tre offerte perché non so che tipo di cliente sei te e qual è la tua propensione alla spesa. Quindi, mi dispiacerebbe offrirti un impianto base quando tu magari volevi fare, o te lo puoi permettere, e magari vuoi fare un impianto estremo, no? A quel punto te magari ricevi diversi preventivi, tra cui un impianto estremo da un competitor e scegli quello. Quindi io, secondo me, è corretto dal mio punto di vista farti i tre preventivi, quindi un impianto base, un impianto completo, un impianto estremo, dopodiché tu scegli come investire il tuo denaro, tu cliente, ok? E il mio vantaggio come venditore è darti tutte le possibilità e andare a cogliere tutte quelle tipologie di clienti in base al loro portafoglio e cercare comunque in ogni caso di portarmi a casa la vendita, quindi l'impianto, in maniera onesta, cioè onesta non vuol dire che sia io economico, onesta vuol dire che do a te la possibilità di pesare gli acquisti, scegliere come spendere i tuoi soldi, poi puoi affidarti a me o a un altro, però i nostri prezzi, che non sono economici, comunque te li metto nero su bianco, dopodiché, chiaro, tu scegli come tutti i clienti, è giusto che scelgano, no? Quindi il nostro vantaggio di venditori è, aggiungendo l'offerta estrema, di far migrare qualche cliente dall'offerta base all'offerta intermedia, che sarebbe l'offerta completa. Non so se avete compreso, però è affascinante come l'aggiunta di un'offerta condizioni anche chi tra quelle due offerte avrebbe già scelto la più economica. Cioè, se tu tra l'offerta base e l'offerta completa avresti scelto l'offerta completa, la logica dice che se io ti aggiungo un'offerta estrema, che è differente dalle due, è molto lontano dall'offerta base, te non vai a migrare e scegli allora l'offerta completa. Ok? Spero di non averti incasinato la capoccia. Però la logica dice questo e invece gli esperimenti nelle varie università che studiano l'economia dimostrano che noi, la nostra propensione alla spesa viene fatta di pancia. Di conseguenza, avendo queste tre offerte, un buon numero di persone scelgono l'offerta intermedia. Spero che questa cosa qua sia una cosa carina. A me è piaciuta un casino, cioè a me piace un casino perché è incredibile come facendo una piccola variazione te vai a condizionare le persone, l'acquisto delle persone. Ripeto, sempre in maniera onesta, perché di fatto i preventivi sono preventivi costruiti con materiale e mano d'opera, materiale e mano d'opera, materiale e mano d'opera. È ovvio che più è grande l'impianto più costerà e poi ognuno sceglie quello che vuole. Però è il come tu la proponi che va a pilotare l'acquisto delle persone. Spero che questa puntata ti abbia fatto piacere. Io quando l'ho letta sul libro mi è piaciuta, mi è piaciuta tanto. Ah, una cosina, una frase che a me piace tanto e che può risolverti il problema quando hai davanti un cliente che lo vedi che non sa cosa scegliere. Mi capita anche spesso con, che ne so, l'architetto che racconti che cosa si può fare su una determinata soluzione del tuo mestiere e l'architetto è in difficoltà perché non capisce qual è la soluzione migliore. E allora in quel caso io non dico sei tu l'architetto, devi scegliere tu o il cliente, sei tu il cliente, devi scegliere tu e lo lascio libero totalmente che sembra moralmente la cosa migliore ma le persone si paralizzano e piuttosto non scelgono. Cioè piuttosto davanti ad una difficoltà nel scegliere una cosa o l'altra perché magari non ne comprendono le differenze piuttosto non scelgono e allora in quel momento dico la frase magica se fosse casa mia io farei così e do la mia soluzione. Ovvio che devi essere una persona onesta eticamente onesta cioè e se fosse veramente casa tua te vai a proporre quello che faresti mettendosi nei suoi panni cioè nel senso vai a scegliere cosa è meglio per quella persona in quel contesto al di là di quanto tu ci guadagneresti tu che vendi, ok? Cioè questa è la cosa onesta e a me piace fare così solo per districare la situazione ma anche per dare un buon suggerimento quindi etica, onestà che non vuol dire costare meno onestà vuol dire che ti do tutte le tutte le informazioni per poter scegliere correttamente dopodiché i miei prezzi possono essere più alti di altri eccetera, ok? Va bene, l'importante è che tu scegli prima non arrivo, ti faccio il lavoro e poi ti dico ok sono un milione di euro ecco questo non lo trovo onestissimo però se ti dico sono un milione di euro per cambiare un'impresa te lo dico prima e te dici sì, di sì ben venga un bacio, un abbraccio a tutti e aspetta un attimo che vado a scegliere la sigla di fine che non ho ancora riparato la mia regia teniamoci in contatto elettricista felice vai sul sito elettricistafelice.it elettricista felice il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su youtube o ascoltare su spotify mentre guidi il tuo furgone ciao ragazzi grazie Grazie.